ehi google vado a fare un giro in bici ma dove vai che c'è il coronavirus devi stare a casa che se cadi e muori manco possiamo farti il funerale pirla dai oggi c'è il sole esco a piedi da solo robe da matti ma cosa ti dice la testa sempre che tu ne abbia una stai a casa e dimostra di avere senso di responsabilità allora porto a spasso il cane tu non hai un cane e se rapisci di nuovo quello della vicina questa volta finisce male se non mi lasci uscire dimmi tu cosa fare preparati i pop corn e fatti una maratona di serie tv su netflix le più belle le ho già viste tutte allora ammazzati di seghe su pornav visto che puoi fare la premium gratis porco ok ma stai calma a dire il vero sei tu che non capisci un c***o e cerca di non rompermi più le palle almeno fino a domani allora ammazzati di seghe示